Maybe you're a firework Come and throw a firework Make them go up, up, up As you shoot across the sky Salve cittadini di... La mia razza, quella dei Blarga, ha un piccolo problema Il pianeta è diventato così impinato e sovrappopolato da rendere impossibile ogni forma di sopravvivenza Ma io, presidente Drake, ho la soluzione Stiamo costruendo un nuovo mondo usando dei componenti planetari accuratamente scelti Ma questo cosa comporta per noi, forse vi chiederete Usando sofisticate tecnologie che ora non vi illustro perché non capireste estrarremo una grossa porzione del vostro pianeta e la giungeremo al nostro Disgraziatamente questo cambio di massa provocherà l'uscita dall'orbita del vostro pianeta che precipiterà sul sole esplodendo in un'enorme massa di gas Ma si sa, bisogna pur fare dei sacrifici, no? Grazie per la vostra collaborazione E se invece avete qualcosa da ridire potete radunare i vostri popoli piagnucolosi mettervi in fila dietro di me e baciarmi il cune Siamo ancora in onda? Spegni subito, idiota!